Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Vulong e in questo video andremo a vedere il primo boss di questo livello, la battaglia decisiva di Guandu, Guandu come si pronuncia non lo so, abbiate pazienza sapete che la mia pronuncia fa schifo, quindi siamo in questo punto e lì non appena apriremo la porta, io ho appena fatto il boss non mi aspettavo ci fosse il boss lì in realtà, quindi sono entrata tranquilla e poi ho attaccato subito a registrare perché in realtà vi stavo registrando il video delle bandiere e non pensavo ci fossero due boss quindi vi faccio l'intro ora appena abbattuto per cui aprite questa porta e di là troverete il boss, niente di complicato comunque a fine video vi faccio un piccolo resoconto della fight, non è difficile, andate easy, ovviamente parriate state attenti ma non è nulla di così complicato, detto questo vi lascio alla boss fight aio e niente non l'ho pariato aio eh ma tua madre eh ma quella zoccola hai finito di romper cazzo questa palla che cazzo è eh che cos'è eh che cos'è no no ah io ah io Grazie a tutti. E vabbè. E basta. E basta, te lo dico. Oh, dai, avevo pariato. Sono maledetto. Avevo pariato, giuro. Giuro, giurello. Lassa cosa. Aglio, aglio. Fammi frustare. Non me lo merito, le prostate. Abbastanza easy, direi. Giovanni, direi che questa boss fight è stata abbastanza easy. L'ho fatta al primo trial, l'ho fatta senza una build, perché come potete vedere il mio equipaggiamento è sempre lo stesso, l'armatura più leggera. Va bene che è potenziata al massimo, come l'arma, però comunque è l'armatura più leggera. I punti sono distribuiti in maniera proprio a caso, cioè ho aumentato solo la virtù legno, così per provare volevo portarla al massimo per vedere se cambiava qualcosa. Ma probabilmente, visto che i livelli sono più difficili del boss, andrò a crearmi qualche build e probabilmente porterò qualcosa sul canale, quindi a breve vedrete qualcosa. Comunque, no, no, una build, sono sia a livello 103, ma comunque, bestia divina, è sempre il mio serpentone di fiducia che mi piace tantissimo. E niente, boss fight molto easy, niente di complicato, a parte quella cacchio di palla che girava, che mamma mia, una roba terribile, però direi molto molto easy. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete, lasciate like, grazie mille e alla prossima! Grazie a tutti!